Ciao da AFSIM! Questo video ritengo sia molto 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 importante perché dobbiamo dire alcune cose che sono cruciali, che sono strumentali, che sono strategiche per interpretare meglio tutti i fatti che riguardano l'Allegrentus in questa stagione 23-24. Stiamo parlando, stiamo tornando a parlare di Magnanelli. Sappiamo che Magnanelli è entrato nello staff di Allegri a luglio, all'inizio della preparazione per questa stagione. Quando si parlava di Magnanelli io ero un po' preoccupato, ricorderete, perché dissi e pensai se Magnanelli entra nello staff di Allegri perché è un amico di Allegri, cioè lo chiama Allegri, lo porta Allegri, vuol dire che Allegri rimane perché eravamo ancora nell'incertezza sulla sua permanenza o meno e si rafforza anche la sua posizione. Questo è quello che pensavamo, perché era anche quello che più o meno ci veniva fatto sapere. Ma Magnanelli in realtà entra a riempire un vuoto, quello di Paolo Bianco. Bianco era stato aggiunto allo staff di Allegri, allo staff storico, poi c'era stato anche l'ingresso di Padoin, ma Padoin insomma non mette non toglie ed era più una decisione di Allegri che non una necessità. Per poi Paolo Bianco, dopo aver firmato un biennale, andarsene, rinunciare e quindi andare a fare l'allenatore in prima adesso al Modena. Paolo Bianco non ha spiegato bene perché se ne è andato, o meglio ha dato delle spiegazioni in brevi dichiarazioni, nelle interviste, nelle conferenze stampa. E ricorderete che commentammo anche il fatto che Bianco aveva detto che Allegri è un grande, che Allegri è un genio, ma riferendosi soprattutto al modo in cui ha gestito dal punto di vista psicologico la scorsa stagione con tutte quelle vicissitudini. Ma parliamo, nel caso di Bianco, di un ex collaboratore di De Zerbi, quindi tutta un'altra cosa, e quindi vediamo un po' difficile come possa uno che ha collaborato con De Zerbi trovare in Allegri qualcosa di più, qualcosa di meglio, qualcosa di buono. Ma di fatto Bianco, invece di continuare per un altro anno che aveva il contratto a fare comunque l'assistente di Allegri alla Juventus, ha preferito andarsene a fare l'allenatore da un'altra parte in una categoria inferiore al Modena per mettersi in gioco. E va bene, diciamo che sulla cosa non è che ci sia stato detto molto, ma arriviamo quindi alla chiarezza e arriviamo quindi al contenuto decisivo e fondamentale per capire il resto della stagione. Ovvero un articolo di Repubblica del 19 settembre che per abbonati, quindi probabilmente vi è sfuggito, è sfuggito alla piazza e questo è il punto. Ecco perché questo mio video è fondamentale perché deve divulgare questo concetto importantissimo. Articolo che però è stato ripreso ovviamente da altre testate, io per esempio l'ho letto su Il Bianconero, nel quale si svela perché Bianco se n'è andato. Che cosa veramente è successo tra Bianco e Allegri? E ripeto, stiamo parlando di Repubblica, l'amministratore delegato del proprietario di Repubblica è Maurizio Scanavino. Maurizio Scanavino, amministratore delegato di Gedi, proprietario di Repubblica. Gedi fa capo Exor. Quindi non possiamo pensare, non è l'articolo di un giornaletto scandalistico che va contro la Juventus e dice delle cose che non dovrebbero essere dette per creare imbarazzo. Se dice delle cose imbarazzanti Repubblica vuol dire che la Juventus vuole che si sappia questa cosa. E allora non possiamo che prendere per buono e per vero perché per la logica del qui protest ci vanno a rimettere. Che cosa scrive Repubblica? Scrive che Bianco era stato tra virgolette imposto ad Allegri dalla precedente dirigenza. Perché era stato imposto? Perché si era detto evidentemente bisogna migliorare il gioco, ti serve una mano caro Max perché se continui a fare tutto da solo il gioco non migliora e si vedono dei peggioramenti. E stiamo parlando dell'estate dopo avergli preso Vlaovic nella quale gli avevano ripreso Pogba e gli avevano preso Di Maria e Bremer 50 milioni e Paredes e Milik e Kostic. Cioè nonostante tutti questi giocatori o forse proprio per tutti questi innesti la vecchia dirigenza era dell'avviso che ad Allegri servisse un assistente. Probabilmente gli fu proposta una short list, quindi un ventaglio di ipotesi e lui scelse Bianco perché lo aveva allenato al Cagliari. Allegri è allenatore del Cagliari, Bianco è giocatore al Cagliari quindi in qualche modo lo conosceva. Ma Repubblica dice che dopo questa imposizione le cose sono andate presto male. Allegri ha presto accantonato Paolo Bianco con le sue competenze e il suo lavoro e quindi con l'aiuto e il contributo che avrebbe potuto dare. Un po' come aveva fatto Pirlo con Tudor, con una differenza fondamentale però, che Pirlo, Tudor, se lo ritrovò dal giorno zero, forse senza neanche che gli servisse. Cioè fu un po' l'allestimento dello staff che fu poco convincente e mi ricordo che Agnelli lo presentò come uno degli staff più moderni della storia del calcio in cui tutti hanno i loro compiti, infatti. E quindi possiamo dire peste e corna di Pirlo che mette fuori gioco Tudor non facendolo lavorare. Ma allora dobbiamo dire ancora peggio di un Allegri che alla seconda stagione gli viene imposto un collaboratore e lo mette fuori dai giochi in pochissimo tempo. Quindi siamo stati un anno forse a chiederci ma che fa Paolo Bianco? Che cosa stiamo vedendo in campo anche tramite il suo contributo? E non è mai stato svelato questo mistero e non è mai stato spiegato anche perché, come sapete, la Juventus non è seguita da tanti giornalisti ben informati, vero? Ah sì? Ce ne sono decine che stanno sempre lì in conferenza stampa all'Allian Stadium, al J-Hotel, eppure nessuno ha avuto il coraggio di raccontarci che Paolo Bianco era stato defenestrato bene, molto bene, anzi molto male. Ma non mi sorprendo perché si sa che va esattamente così. Certe cose sconvenienti, imbarazzanti, mica ce le raccontano perché evidentemente non gli è conveniente dire queste cose. E quindi dobbiamo aspettare un anno dopo che sia Repubblica a dirci che Allegri ha messo Bianco ai margini. E quindi che cosa è successo? È successo che ha sprecato l'opportunità di un'intera stagione di migliorare il gioco facendo a modo suo, prendendosi anche tutti i meriti e gli applausi perché, come dice Caressa, Allegri ha fatto sei lavori in uno. Ecco, se magari avesse lasciato lavorare Bianco ne avrebbe potuto fare quattro o cinque. Se proprio vogliamo dire Allegri poverino se l'è anche un po' cercata. Però evidentemente quanto Bianco, messo ai margini, dice a questo punto me ne vado, rinunciando clamorosamente ad un altro anno di contratto, gli viene comunque imposto Magnanelli. Cioè la nuova dirigenza dice ok, se ne va Bianco, però un altro assistente, un altro collaboratore ti serve. Scegli tu chi vuoi, anche qui probabilmente in una rosa di nomi, e va a prendere Magnanelli perché lo conosce. Ma seppur Allegri ha scelto Magnanelli e oggi se ne torna a parlare, si torna a scrivere ma Magnanelli l'ha fortemente voluto Allegri, quindi per dire alla fine è inutile che date dei meriti a Magnanelli perché tutti i meriti che potete dare a Magnanelli li dovete dare ad Allegri. Però parliamo comunque di un'altra imposizione e parliamo di un'aggiunta, di un elemento che per avere la sua dignità, nel senso proprio di avere un senso, evidentemente deve far qualcosa da solo o no. E dobbiamo ricordare prima delle parole di chiesa a Udine il 20 agosto, quelle di Scanavino il 7 giugno. Scanavino si fa intervistare a Sky in quel giorno nefasto, in cui conferma non richiesta di Allegri e dice però la prossima stagione dobbiamo migliorare un po' nel gioco. Che poi è una bocciatura clamorosa dell'allenatore, ma anche l'imposizione di Bianco prima e di Magnanelli dopo è una bocciatura clamorosa dell'allenatore. Ora, prima di chiederci quanto durerà questa Pax e quanto Allegri sopporterà questa situazione, prima eventualmente di trattare Magnanelli come ha trattato Bianco, passiamo appunto attraverso le parole di chiesa. Chiesa cosa disse? Disse con Magnanelli stiamo provando queste nuove tattiche, con Magnanelli non con Allegri. E non possiamo fare finta di non capire che cosa abbia voluto dire, ha detto esattamente quello che ha detto, con Magnanelli stiamo provando queste nuove tattiche, non con Allegri. E lì ci furono le arrampicate verticali sugli specchi. Sabatini, nervosissimo, in diretta subito dopo Udinese Allegrentus, che addirittura dice che chiesa non capisce nulla di calcio, perché ha osato dare meriti a Magnanelli, quando invece i meriti di Magnanelli sono comunque di Allegri. E poi tutta quella ricostruzione postuma, tutte quelle precisazioni non richieste. No, ma Magnanelli l'ha voluto Allegri e comunque Magnanelli fa quello che dice Allegri. Ma qui appunto veniamo alla verità, veniamo signore alla verità dei fatti, veniamo alla dichiarazione aperta, palese, gridata che bisognerebbe fare e che non può essere disconosciuta, perché persino un sasso, persino un oggetto inanimato ci arriva a capire che cosa. Che se Magnanelli dice ai giocatori quello che gli dice di dire Allegri, che senso ha? Ma stiamo facendo il telefono senza fili? Cioè Magnanelli non ha nessuna dignità di contenuto e dice ai giocatori esattamente quello che gli direbbe Allegri. Ma allora togliete Magnanelli, cioè a che serve? Ci parla direttamente Allegri. Qual è la funzione? È chiaro che non è così, è chiaro che Magnanelli sta dando altri contenuti ad alcuni giocatori, che sta dando loro degli strumenti che Allegri non gli avrebbe dato e non gli avrebbe voluto dare. E quindi c'è, non sappiamo per quale percentuale, ma un'aggiunta di lavoro, di contenuti, di allenamento nello specifico, che proviene da Magnanelli rispetto a quella che avrebbe fatto, farebbe e sta facendo comunque Allegri. E allora Magnanelli è un plus, ma se è un plus ha delle responsabilità positive e negative che non ricadono su Allegri. Anche se l'ha voluto lui, cosa c'entra? Ma di fatto c'è un doppio allenatore, c'è un doppio allenatore, perché l'articolo di Repubblica dice anche che siccome tra Chiesa, Vlaovic e Allegri non corre buon sangue, i rapporti sono un po' freddi, e questo già è gravissimo, ma lo si dice con tutta disinvoltura, allora grazie a Magnanelli Chiesa e Vlaovic dialogando con Magnanelli capiscono meglio e fanno altre cose. Ma ripeto, stiamo dicendo che evidentemente o Allegri non è capace a parlare, e quindi c'è qualcuno che deve parlare al posto suo, oppure evidentemente gli stanno dicendo cose diverse, cose in più. Questa è la situazione oggi. Da questo dato di fatto inconfutabile bisogna partire per qualunque tipo di analisi. Ripeto, dato di fatto inconfutabile che vi è stato nascosto ancora una volta dai giornalisti, quelli bravi ai quali continuate a dare ascolto. Ma fate pure, vi troverete malissimo come malissimo vi siete trovati fin qui. E mi raccomando, non andate a rinfacciare a questi giornalisti che vi hanno negato la realtà che vi hanno negato. Non gliela rinfacciate, lasciateli sereni e tranquilli, continuate ad applaudirli, a seguirli e a ritenerli attendibili. Com'è possibile che per un anno nessuno è stato in grado di spiegarci perché se n'è andato Bianco e che rapporto c'era? E com'è possibile che nessuno è stato in grado di unire i puntini e dire che se Magnanelli sta lì a fare qualcosa fa inevitabilmente qualcosa extra, qualcosa in più rispetto a quello che fa Allegri. Davvero dobbiamo far passare il messaggio che tutto quello che Magnanelli dice ai giocatori in realtà sono le esatte identiche parole che dice Allegri. A che serve la sua funzione? Allora è un altro spreco? Cioè Magnanelli accetta di stare lì a fare da megafono a cosa serve? È ovvio che da altri contenuti. Che poi questi altri contenuti siano concordati con Allegri è un altro discorso. Ma qui interviene un altro ragionamento. Se Allegri ha sempre detto il rivendicato non bisogna cambiare il nostro metodo, dobbiamo continuare a fare sempre allo stesso modo. Perché arriva Magnanelli e Allegri fa un passo indietro e dice Sì Francesco, di quello che vuoi ai giocatori, mi affido a te, mi fido di te nel fare cose diverse, nel cambiare i contenuti, a questo punto l'avrebbe cambiato direttamente Allegri. E comunque se c'è bisogno di un allenatore, di un altro allenatore, per far cambiare i contenuti tattici ad Allegri, è una bocciatura clamorosa di Allegri. E quindi, dicevo, dobbiamo cercare di capire quanto durerà questa Pax. Perché con Bianco è durato poco. Ma se vogliamo anche con CR7 durò pochissimo. Perché nel 2018 tutto si interruppe nella partita in casa contro il Manchester United. Che si attaccò per 90 minuti, 85 minuti, riuscendo a fare un solo gol. Poi ci si rintanò in difesa. E a causa del rintanarsi in difesa, due gol del Manchester United e di Mourinho è sconfitta. Ma lì Allegri colse l'occasione per tirare i remi in barca e per dire Avete visto? Finora, per mesi, e il campionato era stato già praticamente distrutto. La Juventus già aveva quasi... tant'è che si parlava di addirittura 38 partite vinte. In questi mesi è andata in questo modo. Ma avete fatto fare l'allenatore offensivista. Avete voluto attaccare e giocare. Adesso si ritorna a fare come dico io. Perché come avete visto non funziona. Poi si perdono delle partite importanti. Una cosa veramente squallida. E allora io mi aspetto che possa andare allo stesso modo. Perché per il momento i risultati bene o male stanno arrivando. Anche seguendo la dieta Magnanelli. La cura Magnanelli. Che però viene negata e disconosciuta dai giornalisti. Perché non si deve dire... Non si deve dire che c'è... Se c'è un miglioramento proviene da Magnanelli che offre altri contenuti rispetto ad Allegri. Ma appena le cose dovessero andare un po' male. Se dovesse perdere qualche partita. Io mi aspetto che Magnanelli verrà zittito da Allegri. Che tornerà a decidere il 100% degli allenamenti. E quindi si rivedrà il peggioramento. E quindi l'abbassamento a livello delle passate due stagioni. Che insomma calcio con la M. Calcio veramente squallido. E lì poi vediamo se i bravi e improvvisati giochisti. Tra i vari giornalisti di questo inizio di stagione. Che si sono leccati i baffi con il bel gioco. Si continuerà a pretendere un miglioramento delle prestazioni. Oppure lì diranno no ma va bene lo stesso. Perché l'importante è vincere. Anche quando poi non si vince. Come si è fatto per due stagioni. Vedremo. Però intanto il punto fondamentale è questo. Che l'allenatore per quanto riguarda il gioco uguale alle passate stagioni è Allegri. Per quanto riguarda i miglioramenti è Magnanelli. Togliamoci dalla testa che non sia... È esattamente così. Perché ripeto. Ogni altra interpretazione non ha senso. Ed è offensiva dell'intelligenza delle persone. Compresa quella che Allegri concorda con Magnanelli determinate modifiche tattiche. Perché altrimenti le avrebbe fatte da solo. E qui poi magari nascono altre riflessioni. Ovvero al di là di come finirà sta storia. E di questo equilibrio tra Allegri e Magnanelli. Evidentemente la dirigenza una decisione l'ha già presa. Perché se c'è questa bocciatura pesante nei confronti di Allegri. E ci si rende conto che Magnanelli con quel poco di spazio e di tempo e di ruolo funziona meglio. Beh allora Allegri che senso ha tenerlo? Probabilmente lo manderanno via alla prima occasione o alla fine della stagione. Magari tenendosi proprio Magnanelli come allenatore. Nuovo primo allenatore o andando a prendere qualcun altro. Però nella narrazione... Ecco poi perché dice Allegri magari accetta una situazione del genere? Perché tanto fin qui i meriti a chi sono stati dati? Perché con tutta la gente che parla a favore di Allegri. Che cosa è stato scritto, detto e affermato? Che tanto Magnanelli l'ha fortemente voluto lui. Che tanto Magnanelli risponde ai suoi dettami. Cioè delle cose ridicole se non false. Ridicole se non false. E quindi alla fine quello che conta per Allegri è che gli attribuiscono i meriti delle vittorie. E nessun demerito e nessuna critica. Per cui io mi aspetto che Magnanelli venga veramente gettato al macello alla prima occasione. E cioè se le cose iniziano ad andare male inizia a diventare colpa di Magnanelli che ha voluto fare dei cambiamenti che non sono sostenibili. Perché possiamo aspettarci il tutto. Se le cose continuano ad andare bene si continuerà a nascondere Magnanelli sotto il tappeto. Facendo finta che non sta facendo nulla. Invece è lui che sta facendo le cose diverse che eventualmente si vedono. E quindi comunque sarà in merito di Allegri. Perché l'ha voluto. Perché in realtà le indicazioni gliele dà lui. E perché comunque si è vinto. E si applaude quindi Allegri. Ora mi verrebbe quasi da dire. Questa non è neanche più l'Allegrentus allora. Ma è una Juventus con un allenatore sostanzialmente commissariato. Con un allenatore sostanzialmente commissariato. E accompagnato da un altro allenatore che fa altre robe e altre cose. Però per andare a fare questa definizione aspettiamo e vediamo un pochino come si mette la situazione. Perché osserviamo le partite e vediamo che cosa succede realmente sul campo. Però purtroppo la presa in giro è forte. La struttura che continua a prendere in giro è stabile. Ed è la struttura che porta a dire che comunque Magnanelli è merito di Allegri. E che non bisogna dire che ci sono dei meriti di Magnanelli che non ricadono anche su Allegri. Perché il primo allenatore è Allegri e bla bla bla. Ma ripeto abbiamo detto che questa cosa non ha alcun senso. E c'è la racconta Repubblica nei dettagli e nei fatti che sono avvenuti. Nel silenzio di tanti altri giornali e giornalisti. Non sto qui a dire Repubblica è un grande giornale dice la verità. Attenzione avete capito cosa intendo dire. Repubblica proviene da Scanavino. Per cui non possiamo immaginare che sia una voce esterna. È una voce interna. E se è una voce interna dicendo cose sconvenienti e imbarazzanti. Evidentemente c'è l'interesse di dirlo. Per fare che cosa? Per mettere Allegri in difficoltà? Beh magari anche per precostituire una situazione che potrebbe essere vantaggiosa più avanti. Quando le cose dovessero andare o se le cose dovessero andare male. E ci dovesse essere quindi la necessità di mandare via Allegri. Ci sarebbe già la narrazione pronta. Dice sì le cose sono andate male perché si è rotto l'equilibrio con Magnanelli. Che invece stava facendo cose diverse. Era lui che dava indicazioni a Vlaovic e a Chiesa. Ma continuiamo da altri giornali a leggere la solita narrazione. La cura Max, il merito di Max, la bravura di Allegri. Allegri che viene utilizzato come nome della Juventus. Cioè si dice Allegri invece di dire Juventus. E quindi in effetti è molto molto presto per abbandonare la dicitura Allegrentus. Perché di Allegrentus stiamo ancora parlando. Ma chissà per quanto tempo. Grazie per la vostra attenzione. Buon dibattito nei commenti. Devo ancora decidere cosa fare. Se tenerli aperti, chiuderli solo su determinati video. Ma per il momento andiamo così. E comunque il dibattito proseguirà sempre anche su Discord. Link in descrizione. Al di là dei miei video. Tanto spazio per il dibattito. Se il video vi è piaciuto mettete like. E condividetelo. Anzi condividetelo a prescindere. Perché è importante che tutti i tifosi di Allegri. Allegrentus sappiano di questa situazione. Per evitare che si continui con l'omertà. A sottacere la verità. Tutti devono sapere qual è la situazione. Ci sono due allenatori. Con compiti diversi. E di conseguenza le valutazioni sul campo e sulla squadra. Vanno fatte sulla base di questo dato di fatto. Per il resto iscrivetevi. Attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto. Abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese. Per tanti vantaggi. E seguitemi anche sul mio secondo canale. Avsimout. Primo link in descrizione. Per video brevi sul calcio. Ci vediamo molto presto. E senza compromessi. Sempre Allegri Out.